Quali novità presenterà la post-season? Per la Sidigas ci sarà il tesseramento di Tyler Ongwe, ma non sembrano esserci altre novità rilevanti. Coach Sacripanti e lo staff tecnico hanno deciso che si andrà avanti con questi uomini da qui alla fine del campionato. Scelta giusta o meno, bisogna ricordarsi che in campo si fa sempre in 5 e le regole impongono di schierare un determinato numero di atleti italiani. Inserire nuovi elementi non sarebbe stato facile, piuttosto che prendere un big e metterlo in tribuna alternandolo con qualcuno che ha portato la squadra ai play-off, meglio puntare su un Ongwe, che in palestra si sta sbattendo al pari degli altri. La politica di Avellino è opposta a quella della concorrenza. La prossima avversaria, Venezia ad esempio, ha già messo a segno un primo colpo, Jeremy Pargo, un acquisto dettato dalla necessità di sostituire Phil Goss, infortunato ed incappato nella peggiore stagione da quando è in Italia. Ma non si fermerà qui la Reier, che nei play-off vuole essere protagonista. Ecco in arrivo uno tra Michael Eric e Joe Andres Jefferson. Trento, invece, è indecisa tra Andy Routins e Drake Diener, con il primo in vantaggio sul secondo. Mentre Reggio Emilia attende una risposta da Curtis Gerralls, per rinforzare una rosa già di valore. In casa Sidigas il vero acquisto sarà il pubblico. I biglietti a prezzi popolari hanno già spinto tanti tifosi ad acquistare il tagliando per gara 1 e gara 2 di play-off. Il pubblico dovrà trasformarsi nel sesto uomo in campo, il migliore acquisto possibile per sagripanti e compagni.